Ciao a tutti ragazzi, io sono Coridan, ancora una volta ben ritrovati nel mio canale. Oggi vi voglio presentare Wesen, uno degli ultimi giochi di ruolo a cura della Freya Ligan. È un Kickstarter che ha avuto un successo disumano, veramente stato finanziato da paura dai baker. E qui vi mostro la versione normale del corebook, del regolamento di base. Voglio ringraziare la Freya Ligan, come sempre, per avermi offerto una copia. Ovviamente la versione che vedete qui davanti è in inglese, la Freya Ligan li fa soltanto in inglese. Ovviamente anche in svedese, ma penso, penso, poi non ci sono informazioni che, come tutti i giochi della Freya Ligan, verrà portato sicuramente in Italia dalla weird edizione, che tra l'altro accorgo l'occasione per salutare. Quindi, grazie di cuore alla Freya Ligan per avermi offerto questa copia e ve ne parlo a breve, dopo la sigla. Wesen, in questa edizione, ve l'ho detto, inglese della Freya Ligan, è un gioco ambientato nel 1800 in Scandinavia, in Svezia per l'esattezza, appunto, paese d'origine, appunto, della Freya Ligan, della casa editrice e anche dei creatori, perché non sono soltanto editori, ma anche creatori dei giochi che poi vanno a pubblicare, almeno nella maggior parte. Ed è molto bello perché siamo in un 1800 ambientato nel folklore, appunto, scandinavo-svedese. E siamo all'inizio della rivoluzione industriale, quindi il mondo sta cambiando nettamente da un mondo molto più rurale, appunto, di inizio 1800, a un mondo più tecnologico, comunque, beh, tecnologico tra 300.000 virgolette, molto più industriale, appunto, che prendeva un altro tipo di strada. E quindi anche a livello storico, un po' in tutta Europa, ma anche in altri paesi, soprattutto del mondo, verso la rivoluzione industriale, tutti quanti gli abitanti iniziavano ad abbandonare i paesi rurali per spostarsi in città. In città dove c'erano fabbriche, dove c'erano industrie, dove c'erano metallurgie e altre cose, dove c'era, soprattutto, molta possibilità di lavoro, molto più che non in campagna. Ci sono anche tante storie in Toscana di borghetti medievali abbandonati per questo stesso motivo. E andando a prendere a piene mani dal folklore, appunto, dei miti, delle leggende, dei mostri, soprattutto, scandinavi, che vi ricorda, per una piccola parentesi, lo stesso Tolkien si è ispirato a questo, perché, nella maggior parte, goblin, orchi e, soprattutto, troll, e anche storie di fantasmi, vengono dal folklore, appunto, scandinavo. E andando a prendere a piene mani, appunto, da quello svedese, è bello perché in questa ambientazione voi siete una specie, cioè, l'ambientazione che ci sta vicino di più è The Witcher, fondamentalmente. e siete un personaggio che dà la caccia, una specie di cacciatori di studioso, ma anche di cacciatori, soprattutto di questi mostri, perché questi mostri, appunto, i Wesen, erano un tempo le fortune del bosco, il classico fauno che ti veniva a bussare alla porta e se li davi da mangiare ti portava ricchezza e fortuna e benessere, oppure la strega del bosco, però, che se gli andavi a fare un'offerta, magari, invece di farti nascere un figliolo storpio, ti faceva nascere un figlio bellissimo. Il problema è che il mondo, spostandosi, appunto, in questa nuova epoca industriale, la gente ha iniziato a vedere questi miti e leggende un po' come stupidate e non dargli più il giusto peso. E queste creature, che un tempo andavano di pari passi ed aiutavano l'essere umano, si sono un po' incattivite e ribellate. E questa è la trama del gioco. Queste creature, un tempo benevole, ora fanno di tutto per fare del male alle persone e quindi qui intervenite voi, appunto, come cacciatore di mostri e cacciatore di Wesen per risolvere questi problemi. Non vi faccio vedere l'unboxing, perché tanto non c'è niente da fare, soltanto il manuale, ma nel corso del video vi faccio vedere un pochino di immagini e vi do un po' l'indale sul funzionamento. Questa è l'ambientazione a grandi linee, è quello che vi ho raccontato poc'anzi. Voi siete questo cacciatore e difficilmente riuscirete a risolvere i problemi con la forza, sparando, uccidendo, perché un fantasma non si ammazza con una spada normale. Un licantropo non si uccide se non hai un proiettile d'argento. Magari un vampiro se non hai un paletto di frassino nel cuore. Comunque è sempre un detto folklore molto di quegli anni lì, quindi anche dimenticatevi un po' l'idea del vampiro, come ad esempio l'intervista col vampiro, roba un po' più evoluta, qui si torna a proprio tempi di Bram Stoker, quindi un paletto nel cuore, ti blocca il vampiro, l'aglio al collo, lo tiene a distanza e cose del genere. E il regolamento è lo stesso sempre della Freya Ligan. E per questo voglio aprire una piccolissima parentesi, io li adoro, veramente qualsiasi divinità li benedica, perché loro quando fanno un gioco di ruolo usano il loro regolamento, che è lo Year Zero, quello di Mutant. Usano sempre lo stesso, quello di Alien, quello di Tales from the Loop, e quello appunto anche di Vesen. Loro hanno sempre lo stesso regolamento, che poi vanno ad adattare a seconda delle ambientazioni. È normale, Alien, essendo ambientato nel futuro con battaglie fra navi spaziali e xenomorfi, avrà bisogno di qualcosa che magari un gioco fantasy, o comunque ambientato nel 1800 non ne ha bisogno, quindi ogni regolamento ha le sue varianti. Però le regole sono quelle. È inutile fare 20 regolamenti, 20 giochi di ruolo, con 20 regolamenti differenti, da tenere a mente che quando volete andare a fare una cavolo di partita, che è una cosa che mi preme molto, ti devi rileggere il regolamento due giorni prima per prepararti. No, le regole devono essere quelle. Tutto al più ci dà un'occhiata di un'ora per vedere quel poco che cambiava, però se le regole funzionano, perché ogni volta mi fai un regolamento nuovo e la Freeligan c'ha il suo regolamento e vanno avanti sempre con quello. Quindi, se avete giocato a questo, potete giocare ad Alien. Se avete giocato ad Alien, potete giocare a Mutant. Se avete giocato a Mutant, potete direttamente passare anche Tales from the Loop. Ovviamente, dateci un'occhiata perché ogni tanto qualcosa cambia. Il regolamento, ragazzi, è sempre lo stesso. Andate a vedere quanto ci avete in una caratteristica, in un'abilità, magari sparare con armi da fuoco, va su Agilità, Agilità ho 3 dadi, sparare nell'abilità, ce ne ho 3 che è legata a Agilità, tiro 6 dadi e il 6 è un successo. Ovviamente, per ogni 6 aggiuntivo, potete scegliere voi se fare o un danno in più con l'arma, perché anche i danni sono standard. Se una pistola fa 2 danni, ne fa 2. Non è che ne può fare 3 o 5. Però, magari, se avete fatto 3 dadi per colpire, col primo avete colpito, col primo 6, con gli altri 2 aumentate il danno. Quindi, la pistola non fa più 2, ma fa 4. Oppure, potreste fare un colpo mirato. Un colpo che non soltanto lo becca, ma lo disarma. Oppure, non soltanto un colpo che lo prende addosso, ma lo prende in testa e magari, boh, gli fora un occhio. Oppure, lo manda a terra incapacitata e sanguinante. Oppure, gli strappa via una mano. Insomma, quello decidete voi col Dungeon Master. E si possono tirare, ritirare i dadi, giocare un po' con la sorte. E c'è sempre il dado del destino, che è quello che vi dà punti, vi fa perdere i punti di sanità mentale. Follia, se vi ricordate. Come nel gioco di Alien, andate a rifare tutti i dadi il tiro. Ci mettete anche quel nuovo dado, perché avete voluto ritirare. E si esce un 1. Che nella versione Alien era l'immagine del chestbuster, l'immagine del facehugger sul dado. Avete fatto un fallimento. Non soltanto l'azione è fallita. Quel dado vi rimane, fino a che non vi riposate. Ovviamente ve lo tenete, l'avete richiesta alla sorte, ve lo tenete un dado in più, ma che potrebbe portare male. È una possibilità in più di fare un 1. E in più prenderete un qualcosa, un'alienazione mentale e qualcosa del genere. Quindi ragazzi, il regolamento è sempre lo stesso. E per quanto cambia un po' l'ambientazione, non c'è più da scrivere niente in particolare. Voi siete uno studioso e un cacciatore di mostri a Uppsala, appunto in Svezia. E dovete, c'è anche la variante di costruzione della vostra society, perché poi in questa ambientazione qui tutti quanti questi cacciatori, nel corso dei secoli, dal 1500 in poi, si sono riuniti per creare questa società. Società appunto di studiosi cacciatori di questi mostri, perché questi mostri, Vesen, solo voi li potete vedere, perché un tempo si mostravano alla gente, ora non si mostrano più e nascosti nelle tenebre fanno del male e uccidano e assoggettano. Quindi, ora che sono invisibili, solo voi li potete vedere e li potete vedere a scelta nel background dopo aver subito un trauma particolare nella vita che vi ha dato questo potere e la visione. E quindi dovrete anche ricostruire tutta quanta la society perché è stata distrutta un centinaio di anni prima. Insomma, è una gran figata a livello di ambientazione e le regole sono sempre le stesse. In conclusione, è un gioco per tutti, è un gioco veramente molto interessante a livello di ambientazione è bella, è caratterizzata, è fatta bene, ma bisogna essere onesti, non hanno scoperto l'acqua calda. Detto sinceramente perché uno le legge all'inizio, ti viene in mente The Witcher, la fortezza di Kaer Morhen che è stata distrutta, va ricostruita, la society che appunto sono i Witcher che vanno avanti da centinaia di anni, da generazioni, che hanno dei poteri particolari e anche quello stesso. Quindi, diciamo, non hanno scoperto l'acqua calda, però comunque a livello di gioco è veramente interessantissimo ed è bello che una volta ogni tanto magari non sia ambientato in America, ma nel folklore, vabbè, come hanno fatto anche Tales from the Loop, nel folklore di loro, Scandinavo, quindi troll, goblin, spettri, creature dei boschi, fatati, fatine anche, leggende sulle fatine, ad esempio c'era quella storia, quella leggenda di quel tizio che le vide danzare nel bosco attirate dalle luci, parcheggiò la macchina sul cilio della strada di notte in Norvegia, entrò in questo bosco per poi scomparire, ritrovarono la macchina, ma di lui non c'era più traccia. E sono un po' queste storie qui che sono molto belle e un po' sono nell'immaginario di tutti noi e ve l'ho detto soprattutto anche di grandi scrittori e professori universitari come Tolkien, che non l'ha mai nascosto si è ispirato ovviamente ai miti nordici. Quindi, comunque, è una figata disumana e regolamente è sempre lo stesso. Avete giocato ad Alien? Leggetelo veloce, siete pronti a giocare anche a questo o a tutti gli altri giochi della Fria Ligan e se lo volete acquistare direttamente dal sito della Fria Ligan che vi lascio come primo link in descrizione. Io li ringrazio ancora una volta per questo gioiello, capisco perché il Kickstarter ha avuto un successo del genere e ragazzi, è un gioco assolutamente consigliato a tutti ma soprattutto agli amanti dell'investigazione e magari anche di Call of Tulu, cose del genere e del sovrannaturale. Ragazzi, è veramente, veramente, veramente molto interessante e hanno scelto anche l'ambientazione giusta. L'avessero ambientato 200 anni più avanti si andava a cacciare i mostri col minigun e con le, magari con le bombe a mano o con un lanciarazzi avrebbe, ecco, carri armati, avrebbe un po' distrutto. Ambientandolo nei primi dell'Ottocento e in epoca West, rivoluzione industriale, anche le armi che avrete a vostro aiuto faranno un po' schifino quindi insomma è il modo giusto per darti anche un po' di tensione. Quindi consigliatissimo, ringrazio la Fria Ligan e fatemi sapere cosa ne pensate. Cercate un gioco di investigazioni, meglio di questo non ce n'è. Ciao ragazzi, alla prossima!